Dirigente, quali sono le difficoltà e le preoccupazioni per gli insegnanti e come vi state organizzando per il via di questo anno scolastico? Noi stiamo lavorando da tutta l'estate sostanzialmente per applicare i protocolli che sono stati via via approvati dal Comitato Tecnico e che ci sono stati inoltrati dal Ministero. Stiamo adeguando le aule per garantire il distanziamento e la sanificazione dei locali nei tempi previsti, la sanificazione anche delle mani e tutte le regole che tutti noi dobbiamo rispettare. Che cosa preoccupa maggiormente l'aspetto penale? L'aspetto penale è l'aspetto che interessa soprattutto noi dirigenti scolastici perché è chiaro che nel momento in cui l'INALI indica l'infezione da Covid come infortunio professionale si aprono tutta una serie di scenari che vanno esplorati e sui quali appunto ragioneremo. Secondo lei i vantaggi superano i rischi del riavvio dell'anno scolastico? Sì, sì, sicuramente sì perché abbiamo bisogno di ritornare a scuola in presenza, soprattutto i più piccoli hanno bisogno di tornare a scuola in presenza quindi assolutamente ci sono dei rischi ma sono dei rischi che bisogna correre. Avvocato, Covid, mondo della scuola, colpa, che cosa si rischia? Il rischio penale è molto residuale perché si possa contestare una responsabilità in capo ai dirigenti di comunità in genere che sia scuola, piuttosto che fabbrica o piuttosto che attività sportiva bisogna che ci sia un nesso di causalità tra inosservanza delle norme e delle norme di carattere sia generale che specifico e un nesso di causalità appunto con l'evento contagio, il che è abbastanza residuale. Grazie.